Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. L'alta pressione subtropicale continua ad avvolgere buona parte del Mediterraneo, regala bel tempo da nord a sud, eccesso fatta per qualche fissiologica nota instabile sui monti, sulle colline e per lo più nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda questo martedì, bel tempo su buona parte d'Italia, anche in Abruzzo, giornata quasi estiva, al mattino cieli sereni ovunque. Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di qualche acquazione o qualche temporale relegato alle aree montuose, con qualche momentaneo sconfinamento anche alle colline, Le aree del primo entroterra, specie sul Vastese, anche nelle aree interne del Pescarese, localmente, molto localmente, nel Terramano, lungo le coste, qualche annuvolamento nel tardo pomeriggio, però non ci aspettiamo particolari fenomeni a più qualche breve piovasco, ma davvero di brevissima durata. Le temperature, ancora praticamente estive, massime sin verso i 28, qualche picco di 29 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.